Buongiorno a tutti i gentili signori, signori e veri vanguri, si inizia con la presentazione dei nostri Instant Mail. E si inizia con il primo passaggio in testa a coda. E la volta del testa a coda e il progetto. Ed ora attenzione, più difficile, apertura all'ultimo secondo. Ed ora attenzione, più difficile, apertura all'ultimo secondo. E la volta del testa a coda e il progetto. E la volta del testa a coda e il progetto. E applaudiamo i tutti insieme Alex Marco e Maurizio. E la volta del testa a coda e il progetto. E la volta del testa a coda e il progetto. E la volta del testa a coda e il progetto. E la volta del testa a coda e il progetto. E la volta del testa a coda e il progetto. Eccoli in posizione e Alex sovrappostare attraverso noi. Eccoli in posizione e attraverso noi. Sono troppo larghi, più attaccati. No, no, non attaccati in quel modo. No, dovete stringere la porta, la porta più stretta. No, no, non attaccati in quel modo. No, non attaccati in quel modo. E' la volta del casco, attenzione! Più difficile! Ed ora dovrà recuperare un accendino! Ricordiamoglielo che deve prendere l'accendino, eh? Metteva la moneta, metteva! Buongiorno a tutti! E' la mano! Buongiorno a tutti! La Carta Luna! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! E adesso vediamo dove sono quattro ragazze coraggiose che vogliono andare in violotto! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! No 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 signorina venga fuori che sono un po' dispettosi! Esci Maurizio! Buongiorno a tutti! Allora Alex vai al tuo posto! Buongiorno a tutti! No 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 no! Ehi vieni! Aspetta! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! No no no! Sono sfericolati! Ma cosa stanno combinando fuori Marco! Buongiorno a tutti! Avanti le prossime! Cambio ai passeggeri! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! E facciamo bel applauso le ragazze, veramente coraggiose! la signorina con i pantaloncini corti lei torna indietro che ha perso qualcosa prestate il massimo della vostra attenzione vi chiediamo di applaudire solo a esercizio terminato per voi il 360 adagio adagio il 360 è riuscito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti perfetto più difficile è la volta di un doppio testa coda in retromarcia grazie a tutti grazie a tutti è la volta di una serie di parcheggi ed ecco parcheggiato sono troppo larghi stringiamo la porta ed ora vi presenterà il parcheggio millimetrico bellissima grazie a tutti bellissima 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 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Scoppiato e carteggiato! Alex, Marco e Maurizio! Scoppiato e carteggiato! E ora, Turbillão! Scoppiato e carteggiato! Scoppiato e carteggiato! E tutti in pista per l'applauso finale Alex, Marco, Maurizio, la nostra mascotte, Nicole E direi che si meritano un caro roso applauso Grazie a tutti e un buon proseguimento di passeggiata all'interno della fiera Ciao!